Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Purtroppo questa è la seconda volta che registro il video per la prima volta, l'ho registrato senza audio, quindi se mi vedete un po' così è per questo. Ma siamo qui subito, dopo il turno infrasettimanale, a parlare di nuovo di Fantacalce, a vedere chi schierare e chi evitare per la sedicesima giornata, perché si gioca di nuovo sabato alle ore 15 e il primo match vede affrontarsi Salernitano e Milan. Ma prima di analizzare partita per partita e cercare di capire chi schierare e chi evitare al Fantacalcio, vi invito a lasciare un mi piace e portafortuna per la vostra squadra al Fantacalcio e se non siete iscritti al canale vi invito anche ad iscrivervi perché è gratis, ma soprattutto perché così non vi perdete nessuna novità sul mondo del Fantacalcio. Fatta questa piccola e doverosa premessa, iniziamo. Come anticipato la prima partita vede affrontarsi Milan e Salernitana sabato alle ore 15, quindi segnate bene i fantallenatori l'orario in cui bisogna schierare la formazione. Nel Milan purtroppo si è fatto male Chier e probabilmente la sua stagione è finita, dovrà operarsi al crociato e si prevede uno stop di 7-8 mesi. Dovrebbe prendere il suo posto al centro della lìvesa Romagnoli. Nel Milan i nomi affidabili per il Fantacalcio sono più o meno sempre gli stessi. Teo e Tomori in difesa, che sì, e Tonali a centrocampo uno per i rigori e l'altro per il buon voto. Brain Diaz sulla tre quarti e in attacco Leao, che è anche riposato all'ultima durante l'infrasettimanale, non è entrato in campo quindi è fresco, può fare la differenza in questa gara. E Zlatan Ibrahimović, che quando c'è, come ben sappiamo, si schiera sempre senza problemi. E visto che Giroud è ancora out per infortunio, Ibra c'è e si schiera. Per quanto riguarda invece per il posto in alto sulla destra, balottaggio pieno tra Messias, che sta facendo molto molto bene, gol in Champions League, doppietta all'ultima di campionato, e Salem Hacker, che è stato fin qui il titolare della fascia destra del Milan. Il balottaggio è aperto, se avete entrambi al Fantacalcio aspettate le formazioni ufficiali. Vedete chi gioca da titolare sostanzialmente, chi gioca fra i due lo andate a schierare. Per quanto riguarda la Salernitana, poco e nulla da Fantacalcio, o anzi, potremmo dire direttamente nulla. Nessun consigliato, nessun giocatore da mettere obbligatoriamente per questa giornata. Passiamo alla seconda partita, che è subito un big match che vede affrontarsi Roma e Inter. Nella Roma pesano tante le assenze, per infortunio di Pellegrini e per squalifica di Abram e di Karsdorp. Aggiungiamoci anche questo match, negli ultimi quattro stagioni e negli ultimi, quindi, otto precedenti, è sempre stato a favore dell'Inter e la Roma non ha mai vinto. Quindi, tra la storia del match e anche le numerose assenze nella Roma, non farei tantissimo affidamento sul reparto difensivo della squadra della capitale. Punterei però forte, invece, sul centrocampo, in particolar modo su Veretù, rigorista. Su Mkhitary anche farà il trequartista e quindi può essere un giocatore importante per questa gara di campionato. E Zaniolo, che è anche un ex, anche se non ha mai esordito in Serie A con la maglia dell'Inter. In attacco nella Roma, Cesio Murdo va al posto di Abram, rappresenta in questo momento la prima punta di una grande squadra e si può schierare, salvo che non abbiate clamorose alternative. Per quanto riguarda, invece, l'Inter, possiamo fare affidamento sui difensori centrali Skriniar e Di Marco. Condizioni da valutare per quanto riguarda Bastoni, che è saltato l'ultima di campionato per Gastroenterite. Potrebbe recuperare, ma in questo momento non abbiamo informazioni certe. Sempre in difesa si può schierare Danfris, ancora non ha la concorrenza di Darmian, perché ricordiamo Darmian out per infortunio. Sull'altra fascia Scepperic, che si può schierare, può far bene visto che manca Karsdor di fronte a lui. Barella ovviamente si schiera, si schierano anche Cialanogli, Lautaro Martinez, i due rigoristi. La situazione non è chiara, ma rigori o no, entrambi vanno schierati. E si schiera soprattutto Edin Dzeko, che è un ex, un ex importante, perché stiamo parlando di un ex capitano della Roma. Passiamo adesso alla partita del sabato sera, altro big match, Napoli contro l'Atalanta. Gara questa di estrema difficoltà per il Napoli, che viene colpito da tante assenze, tanti tanti infortuni. Oltre Osimène e Anglissa mancherà certamente anche Koulibaly, mentre sono ad oggi da monitorare bene le condizioni di Fabian Ruiz e di Insigne. Ma questi due dovrebbero recuperare. Senza Koulibaly in campo perde affidabilità tutto il reparto difensivo del Napoli, portiere compreso. Quindi ragazzi, per quanto riguarda i difensori, vista la pericolosità offensiva dell'Atalanta, se avete alternative migliori, i difensori del Napoli non rischiateli e lasciateli fuori. Fabian Ruiz ha centrocampo in dubbio, ma viene anche da due gol consecutivi, due gol assolutamente non facili, quindi si può lasciare anche fuori. I tre giocatori invece da mettere assolutamente sono Zielischi, Mertens ed Insigne. Occhio sempre ovviamente alle condizioni di Insigne, ma credo che alla fine vada a recuperare e ovviamente anche a giocare da titolare, perché in questo momento il Napoli è molto molto corto. Per quanto riguarda l'Atalanta, non è pazzia schierare i difensori centrali. Il più evitabile, secondo me, dovrebbe essere Demiral, che fra i tre difensori potrebbe essere colui che rischia di soffrire di più la velocità degli attaccanti partenopei. Gli esterni dell'Atalanta vanno schierati su tutti Zappacosta, mentre sull'altra fascia c'è un po' di balottaggio, quindi viene un po' difficile capire chi giocherà tra Ateboer e Mele. Solita gestione per Pasalic, Malinoski e Muriel, a prescindere dal minutaggio, si possono schierare da titolari, mentre Zapata non si discute, si mette e poi giocherà certamente da titolare, visto che non è entrato neanche in campo all'ultima contro il Venezia. Adesso andiamo però alla giornata di domenica, la prima partita vede affrontarsi alle ore 12.30, Bologna contro Fiorentina. Gli scontri diretti sono quasi tutti a favore della Fiorentina. Nel 20 precedente, 10 vittori per la Viola, 8 pari e solo i due sconfitte. Entrambe le squadre in questo momento sono due squadre che stanno bene, stanno facendo un ottimo campionato e hanno gli stessi punti, 24 in classifica. Il Bologna però non sta assegnando tantissimo e mancherà anche Arnautovic, che è fondamentale per il gioco di Mihailovic, proprio per questo vedo leggermente favorita la Fiorentina. Nel Bologna sono tre i nomi realmente da schierare per questo turno. Tet, difensore centrale che sta facendo benissimo, è molto molto giovane e ha portato anche contro la Roma, un 7 a casa. Soriano, trequartista, ancora non ha segnato quest'anno e continuiamo a schierarlo perché comunque un giocatore che merita, fantacalcisticamente, per posizione e per caratteristiche, e Svanberg, che ha segnato all'ultima di campionato tre gol già quest'anno in 15 partite. E attenzione, perché senza Arnautovic potrebbe essere lui il rigorista della squadra. Più consigliati per la Viola mettiamo Milenkovic, che ha riposato all'ultima di campionato, si schiera in difesa anche Biraghi. A centrocampo, assoluto protagonista, è stato nell'ultima di campionato Buonaventura che si può riproporre, così come si può riproporre Riccardo Saponara. In attacco ovviamente non si discute e Dusan Blaovic. Per quanto riguarda la sezione scommessa, troviamo più di qualche scommessa per questa gara. Per il Bologna troviamo Musa Barrow che agirà da prima punta e lui potrebbe anche dividersi eventualmente un calcio di rigore con Svanberg. Mentre nella Fiorentina troviamo Martini e Squarta, Odrio Zola che ha riposato all'ultima e dovrebbe ritrovare il posto da titolare. E Nico Gonzalez, anche lui forse potrebbe tornare da titolare in questa gara. Andiamo adesso a Spezia contro Sassuolo. Il Sassuolo è in serie positiva, vittoria a Milano contro il Milan, pareggio in casa contro il Napoli. Mentre lo Spezia è in una serie negativa, tre sconfitte consecutive. Quindi partita ed interpreti spingono per un risultato a favore del Sassuolo. E infatti nello Spezia non troviamo nessun nome da schierare a ogni costo, ma solo alternative scelte d'emergenza come Bastoni in difesa, Covalenco è maggiore a centrocampo in balanzolà e Verde in attacco. Nel Sassuolo non sottovalutiamo Ferrari e Roger in difesa, ma i giocatori da schierare a tutti i costi sono i giocatori del tridente, i giocatori offensivi Berardi, Raspadori e Gianluca Scamacca. Tre gol nelle ultime tre partite. Andiamo adesso al derby veneto che vede affrontarsi Venezia e Verona. Il Venezia non ha mai vinto nei nove precedenti, ci sono state cinque vittorie per il Verona e quattro pari. Ci aggiungiamo anche che la corsa del Verona è un po' rallentata, pareggiando all'ultima contro il Cagliari e perdendo alla giornata precedente. Ma il dato che mi fa puntare maggiormente sui giocatori del Verona è un dato statistico. La vittoria del Venezia è quotata a 3,50€ e generalmente quando una squadra è quotata a tanto vuol dire che ha il 29% di probabilità di vincita, ma il Venezia quando è quotato a 3,50€ invece vince solo il 14% delle partite. Una percentuale molto bassa che mi spinge a dar fiducia a tanti giocatori del Verona. Nel Venezia infatti l'unico vero schierabile è Aramu. Si potrebbe schierare anche da scommessa Okereiche, mentre Caldara se non avete alternative siete cortissimi, può essere comunque una buona scelta perché non dovrebbe andare di molto sotto alla sufficienza. Nel Verona invece come ho anticipato ci troviamo più nomi schierabili, Gunter è il migliore fra i difensori centrali, ma ci sono dei giocatori, quelli che sto per elencare, che sono realmente da non tenere fuori assolutamente. Faraoni, Lazovic, Barak, Caprari e il ciolito Simeone. Passiamo adesso a Samp contro Lazio. Nella Sampdoria torna ad titolare qualcuno che ha saltato la scorsa per turnover e qualcuno invece che ha saltato la scorsa per squalifica. Ma il vero giocatore da schierare a ogni costo nella Samp è solo uno che è Candreva, stagione fantastica la sua fin qui, scommessa invece quale Arella e Caputo. Per quanto riguarda la Lazio, possiamo puntare su Acerbi che deve riscattarsi dopo una prestazione non ottima contro l'Udinese, Luis Felipe che torna dalla squalifica, a centrocampo puntiamo ovviamente sui soliti Milinkovic, Savic, Luis Alberto, Felipe e Anderson e in attacco Ciro e Immobile. Per quanto riguarda le scommesse invece in casa Lazio, troviamo i due terzini, Isai e Lazari, Zaccagni a centrocampo e Pedro in attacco. Juventus contro Genoa e la partita successiva continua quindi un tour de force per la squadra di Shevchenko. Alta, altissima schierabilità per gli Juventini. Tutti i difensori si possono schierare, a centrocampo si può mettere Locatelli ma soprattutto gli esterni, che esoranno Bernardeschi e Kulusevski. In attacco Morata assegnata all'ultima da subentrante ovviamente lo confermiamo, Di Bala anche dopo l'errore da dischetto si conferma e si può confermare anche Moise Ken. Però quest'ultimo dipende anche un po' dalle vostre alternative. Per quanto riguarda il Genoa, non ve lo nascondo, nessun nome consigliato. In divesa manca Criscito, che sarebbe stato il nome da mettere. Volendo Cambiasso si può lasciare come scommessa, ma lo hanno in pochi al fantacalcio. I centrocampisti ispirano tutti poco. Hernani si potrebbe mettere magari in panchina perché il voto lo garantisce. E in attacco probabilmente Pandev con Kuban. Ho al massimo Bianchi, nessuno dei tre ispira e quindi nessuno dei tre è da schierare. Passiamo adesso alla prima delle due partite del lunedì. Empoli contro Udinese, che si giocherà lunedì alle 18.30. Nell'Empoli può tornare di moda il nome di Berami, che rappresenta un'interessante scommessa in questa giornata. Un giocatore offensivo che può far comodo contro una squadra che è molto solida a livello difensivo quale l'Udinese. Ma è Pinamonti il maggior consigliato della squadra toscana e principalmente lui il leader fantacalcistico in questo momento dell'Empoli. Per quanto riguarda l'Udinese si può schierare al fantacalcio New Hitting e in attacco soprattutto Deulofeu e Beto, due giocatori che stanno facendo benissimo fin qui. Beto doppietta l'ultima contro la Lazio e Deulofeu, che ancora quest'anno non ha preso un'insufficienza. Scommessa per l'Udinese Pousset, che con l'assenza di Pereira ha maggiori responsabilità. L'ultimissima partita, lunedì, ore 20.45, Cagliari contro Torino. Nel Cagliari il nome da mettere, come sempre, è Gio Pedro, affidabile sempre. Nandez e Belanova sono invece le due scommesse per reparto dei centrocampisti e dei difensori. Nel Torino, invece, Bremer e Brecalo sono i due più consigliati, due nomi che su tutti possono far meglio, ma non sottovalutiamo tantissimi giocatori interessanti, come ad esempio, come Sanabri in attacco, ma a centrocampo troviamo Praet, a centrocampo sempre troviamo Pobega, e in attacco c'è Piazza, da non sottovalutare, che è tornato finalmente a giocare da titolare nell'infrasettimanale, ma è uscito nel primo tempo, perché poi Singo si è fatto espellere, e quindi Yuri ci ha preferito togliere un attaccante per mettere un esterno di centrocampo, un terzino. E quindi potrebbe anche trovare spazio nuovamente, e aveva segnato nell'infrasettimanale. Bene ragazzi, questo video finisce qui. Come sempre spero di esservi stato d'aiuto, se così fosse lasciate un mi piace al video. Se non siete iscritti al canale vi invito ad iscrivervi, e noi ci vediamo al prossimo video.